De Caro Home and Street Food, panino con polpette gourmet, porchetta, pollo allo spiedo e altre specialità, tutte cotte al forno. Per De Caro comincia la nuova avventura, vi aspetta in via Carlo del Balzo ad Avellino. Ultimi preparativi al Duomo per l'accoglienza a nuovo Vescovo Aiello. All'interno della cattedrale sono stati allestiti due maxi schermo per consentire ai fedeli di seguire la cerimonia anche dalle navate laterali. Sistemati le portrone dove sederanno i Vescovi provenienti dalle diocesi di tutta la campagna. Ultimi accordi anche per la postazione dei coristi e dell'organo, un apporto a cui tiene molto l'ex Vescovo di Teano. All'esterno la gradinata e la piazza che si prepara a ospitare migliaia di fedeli è stata ripulita e attrezzata gli angoli di bagni chimici. In tarda mattinata gli ultimi sovralluoghi per la polizia municipale, gli agenti della questura, la Digos e i responsabili dell'amministrazione diocesana per le ultime verifiche al piano di sicurezza. Nel mirino in particolare l'accessibilità delle vie di fuga, l'installazione della segnaletica, i varchi e la definizione degli spazi che saranno riservati a numero chiuso alle 2.500 persone che saranno presenti all'evento. Sì, pare che sia tutto pronto, siamo contenti, felici, anche se sarà una giornata molto impegnativa, ma siamo contenti. Sicuramente ha conosciuto meglio di tutti in queste ore il Vescovo di Avellino, ci sembra una persona umile. Sì, sì, ma già nei primi incontri che abbiamo avuto abbiamo scoperto una persona molto semplice, umile, un servito della gioia, ha detto in un'intervista, la gioia del Signore. La raccomandazione che possiamo fare agli avellinesi? Di stare tranquilli, di stare tranquilli, di stare tutto bene, anche se saremo sottoposti a un po' di controlli, ma è nella normalità delle cose. Per la nostra sicurezza. Adesso cosa sta per fare, Lorenzo? Siamo in ultimi ritocchi qui in cattedrale per provare tutti i posti per accogliere le persone. Qualche simpatico retroscena del Vescovo che tra l'altro abbiamo visto portare anche delle mozzarella alle sue ore alla dioce di Avellino. Sì, l'ha portata anche a me. Le mozzarella di Teano. Sì, sì, grazie, anche a me l'ha portata l'altro giorno. Ha allestito anche la sua stanza in modo particolare, visto che è un musicista? Non ancora, perché quando arriverà poi si insiderà per bene. Noi abbiamo preparato i locali, l'ambiente e poi lui se lo sistemerà a secondo il proprio gusto. Lui è stato compagno, credo, di seminario di Monsignor Marino. Sì, sì, compagno di seminario, amici ancora tutt'ora. Quindi l'amicizia fraterna e sacerdotale e episcopale che certamente caratterizza anche, da un lato, una continuità nel Ministero Pastore, ma anche una discontinuità, perché mi colpì una frase che ci disse, il giorno in cui siamo andati a trovare a fare visita a Teano, disse che noi siamo molto amici con Don Franco, eccellenza Marino, si parla che siamo due persone diverse. Cosa le ha detto sua eccellenza prima di questo giorno? L'avrà sentito al telefono ieri in queste ore? No, non ci sentiamo da quanti giorni che è venuto qui l'altro giorno. E poi mi è rivegliato stamattina, ma fino ad adesso non mi è arrivata la telefona. La cosa è di fare tranquilla.